Un viaggio nella memoria tra il tempo che scorre ed una mente che dimentica. L'inesorabile processo di invecchiamento che è spesso accompagnato dalla paura di diventare più lenti, inutili e invisibili. E questo è il filo conduttore di alcune cose da mettere in ordine, lo spettacolo portato in scena sul palco dell'Auditorium Sant'Anna dalla compagnia svizzera Officina Orsi in occasione della ventottesima edizione del Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria. La storia è quella di Anna interpretata dall'attrice Roberta Bosetti, una donna appena al di là della soglia dei 60 anni che inizia a porsi delle domande sul percorso della vita. È una donna che sta per entrare in una clinica per fare degli accertamenti perché ha un po' una perdita di memoria e quindi è preoccupata e ha paura di avere una malattia. Mentre sta aspettando questo incontro, questa visita racconta agli spettatori molte parti della sua vita, parti belle, parti brutti, viaggi che ha fatto, il figlio che non ha avuto eccetera e tutte le cose che diciamo che ha amato nella vita e quindi fa un po' un bilancio della sua esistenza. Un'idea nata dopo un lungo periodo di lavoro della regista Rubidori Manshaft alias di Roberta Dori Puddu all'interno delle case di cura per anziani. Un'esperienza grazie alla quale è stato possibile sviluppare ulteriormente una ricerca artistica sulla memoria, tema centrale di questa edizione del Festival Castel dei Mondi. Io da anni lavoro sulla memoria, c'è un progetto che dura più di 10 anni che lavora sulla memoria. Questo nello specifico è iniziato nelle case cure anziani. Ho avuto la necessità, è iniziato prima del Covid, poi c'è stata l'interruzione che tutti sappiamo e poi è ripreso dopo il Covid. Ho avuto la necessità di fermare queste memorie che di solito vengono perse e che vengono anche non troppo considerate perché purtroppo quando uno ha un deficit neurologico sembra che valga di meno perché non è attivo nella società. In realtà sono le parti preziose che uno cerca di mantenere e che ho avuto la necessità di cristallizzare nello spettacolo.